Andrea Dal Corso si vendica di Teresa Langella, chi la fa laspetti Da pochissime ore, sul profilo Instagram di Andrea Dal Corso è apparso un video, attraverso la modalità IG Stories, che sta generando un po' di sgomento. Nella ripresa in questione c'è l'ex corteggiatore che pronuncia una frase minatoria contro la sua attuale fidanzata. Nel caso specifico, si vede Andrea che si vendica di Teresa compiendo un gesto inaspettato. Ma di cosa si sarà vendicato il modello Veneto? Cerchiamo di capire un po' meglio che cosa è accaduto tra i due in questi giorni. La storia tra Andrea e Teresa. Teresa e Andrea stanno condividendo con i loro fan una serie di IG Stories e post in cui sembrano assolutamente felici e sereni. In questi giorni sono volate parole davvero molto importanti tra i due. Dopo i primi momenti di titubanza, infatti, Dal Corso ha finalmente detto alla Langella di amarla e lei ha ricambiato immediatamente. Il fine settimana appena trascorso è stato davvero fondamentale per la loro relazione. Il modello, infatti, ha festeggiato in ritardo il suo compleanno ed ha, ovviamente, invitato anche Teresa. La Langella, dunque, ha potuto fare la conoscenza di tutta la cerchia di amici del suo fidanzato. A quanto pare, ormai, i due sono entrati a far parte reciprocamente della vita l'uno dell'altra. . Considerando tutti questi momenti bellissimi e questi gesti inaspettati, dunque, per quale ragione Andrea ha pubblicato un video in cui si vendica di Teresa? Qual è il motivo di tale gesto inaspettato?. . La vendetta di Andrea. Sul profilo Instagram di Dal Corso, attraverso le recenti IG stories, è possibile prendere visione di un video in cui Andrea si riprende con delle patatine in mano e una bottiglia. . Il ragazzo, raggiunge silenziosamente il bagno in cui si trova Teresa e, nel momento in cui la Langella apre la porta, Andrea le tira qualcosa contro. . Dalla ripresa non è affatto semplice capire di cosa si sia trattato né tanto meno, quale possa essere stato il movente di tale gesto. . Dal filmato è possibile semplicemente capire che Andrea si vendica di Teresa per qualcosa. . Sta di fatto che il ragazzo ha scritto anche, chi la fa l'aspetti. . Dopo lo scherzo di Andrea, si sente la Langella gridare dal bagno e pronunciare frasi incomprensibili. . Dal Corso le chiede come sta e lei, ancora sconvolta da quanto accaduto, grida un forte sì. . L'ex corteggiatore, poi, le ribadisce anche a voce che chi la fa l'aspetti. . Insomma, la simpatica Gaga ha divertito molto i numerosi fan che seguono la coppia con tanta passione e tanto amore. . Adesso, però, resta da scoprire il motivo della vendetta di Andrea e la reazione di Teresa a tutto questo. . . . .